Come migliorare scanner di successo mondiale? Ridefinendo ciò che è possibile. Presentiamo la serie Fujitsu Fi 8000. Ridefinire lo standard per la digitalizzazione aziendale. La nostra tecnologia PFU Clear Image Capture offre una qualità dell'immagine al top sul mercato. Combinata all'ottimizzazione delle immagini di PaperStream IP, PFU Clear Image Capture assicura livelli di accuratezza OCR leader nel settore. Oltre ad accesso e archiviazione dei file, più rapidi e convenienti. La serie Fi 8000 può digitalizzare la più ampia gamma di documenti senza necessità di separarli in lotti diversi. Da 20 a 465 grammi per metro quadro, carte o libretti con spessore fino a 7 mm e anche passaporti. Naturale evoluzione della soluzione di acquisizione più affidabile al mondo, la serie Fi 8000 sfrutta la potenza di 32 nuovi brevetti per offrire innovazione su cui la vostra organizzazione può contare. Il controllo automatico di separazione utilizza una tecnologia all'avanguardia per garantire un'alimentazione costantemente perfetta, mentre la protezione intelligente della carta, unita alla prima funzione al mondo di monitoraggio dell'immagine, assicurano che i documenti vengano acquisiti in tutta sicurezza. La serie Fi 8000 offre una user experience insuperabile, con funzionalità come il rilevamento multipescaggio migliorato e il controllo overscan che previene inutili interruzioni. Il risultato? Una produttività aziendale senza pari. Grazie alla sua scalabilità, la serie Fi 8000 offre vantaggi strategici a lungo termine e valore sostenibile durante il vostro percorso di trasformazione digitale. Serie Fujitsu Fi 8000. Ridefinire lo standard per la digitalizzazione aziendale. Org